Vuoi capire dove è l'entrata? E non capisco perché la mia paura mi fa continuare ad andare avanti E' quello il problema, ok? Mori... Perché sto continuando ad andare avanti? Perché? Cazzo ragazzi... No, non ci posso credere Ma che culo c'ho? Benvenuti in questo nuovo video Vi voglio solo annunciare che ho registrato tantissimissimo Questi episodi e che quindi in un unico episodio Non ci riuscivo a stare Ma se superiamo i 25.000 mi piace in giornata Vi prometto che fra un paio di giorni Vi carico la seconda parte Così da avere un altro episodio della vanilla Ovviamente non mancheranno tutte le altre serie Vi voglio già annunciare di passare un sacco di buone feste Godetevi il video e buona visione Mi scaccolo Bella tutti ragazzi ragazzi sono Anime E bentornati in questo nuovo episodio della vanilla Scusatemi enormemente se la sto trascurando un attimino Ma ho fatto caso che se portavo avanti insieme la serie di Skyland E la serie della vanilla Erano piuttosto simili all'inizio Perché appunto essendo due survival avrei fatto abbastanza cose ripetute Quindi ho lasciato un attimo da parte la vanilla per portarmi leggermente avanti nell'altra serie Come sempre se volete che continui questa serie superiamo i 30.000 mi piace consigliatemi qua sotto perché anche quest'oggi avrò dei commenti da farvi vedere che mi avete scritto nello scorso episodio Un dato qual cannetto è diventato qualcosa di enorme Mancano solo i coccodrilli qua dentro E cioè di tutto Il primo commento me lo fa Ashley Qualcosa in geroglifico Ti prego smettila di distruggere le cose con la spada Altrimenti si usura per cose da niente Oh scusa zio ok non la metto più Un portante è un tarrabbi Mentre la secondo parlo come i nigeriani Me lo fa Alessandro del Corno E' impossibile fare un grattacielo di 100 piani Il limite massimo dell'altezza del mondo sarà sì e no a 150 blocchi E' per questo che non esistono astronauti in Minecraft A questo sinceramente non ci avevo pensato Ma nel caso comunque visto che negli scorsi episodi avevo detto che avrei fatto magari ad ogni episodio un piano di un edificio sempre andando in verticale Potrò una volta arrivato in cima farne uno a fianco Nel senso tanto il mondo è enorme il mondo è vasto E possiamo fare insomma ciò che vogliamo Qua ci sono milioni di Ciao polli Comunque c'è da dire che qua è un attimo tutto da sistemare realmente Perché no rimani dentro Stupida pecora che non sei altro Rimani dentro Ok se nel caso entri anche tu mi fai un favore Magherai le pene dell'inferno Tanto erano già due potremmo farle riprocreare quando vogliamo In realtà manca un pezzetto di staccionata che facciamo in questo momento So che anche in questo episodio dovrei fare i tappetini con la lana Così che posso entrare nei recinti senza nessun problema Sì mi piacerebbe fare i cancelletti non ho legna Va la mettiamo la camicia di stepney si inizia a disboscare Mi ricordo che avevo piedato tipo una miriade di alberi tipo Praticamente ho ripopolato mezza foresta amazzonica Ah mi piace il legno Mi piace il co... Ah! Ma vaffan brodo Ma fa tutti i matti C'è la luce? Allora ci sta la fottuta luce Ah in realtà la lana ce l'ho Quindi possiamo anche far così E fare i tappetini Mentre l'ultimo commento E l'ho tenuto perché diciamo è una lista della spesa Me lo fa il duo Può essere che l'hanno scritto in due No Fuori è freddo e dentro è buio Stringimi la mano Io mi posso stringere solo con le zampe di gallina ma va bene E cioè anima inizia ad incantarti Vai subito in miniera a prendere i diamanti Fai un piccone incantato subito Questo po' ordine ragazzi Il sergente Hartman ce l'abbiamo qua Prima di incantare fai le librerie a livello 30 Fatti un'armatura in diamante Sì più ordinato inizia a fare un magazzino e dividi tutti Ma che sia mia madre? Dopo aver incantato il piccone incanta subito l'armatura Poi fai la spada sempre al 30 Fai lo spawner di mob cerca su google Potessi scrivermi come si faceva E poi fatti una farm di ferro Cos'è una farm di ferro? In realtà sono ordinato E poi il ferro ne ho per abit safe proprio Ma in realtà adesso dormo così Penso un attimino a che cosa devo fare Allora ragioniamo una cosa per volta Visto che le librerie Ok si fanno con il legno ci sta Però dovrei prendere penso la canna da zucchero Per fare la carta Però serve poi la pella anche di mucca E la mucca non ce l'ho Perché devo andarla a raccattare No non spacchiamo con la spada Che se no si incazza quella là Spacchiamo con questo credo che non si usuri Potremmo un po' di canna da zucchero Penso che andare a prendere una mucca Sia la mossa vincente in questo momento Anche perché l'abbiamo appena dormito il giorno Oggi splenda il sol E se non ricordo male Un maiale Ah giusto Quali carote sono inesistenti Se non ricordo male Le mucche erano da questa parte qui Montone, pecor, agnello Se non ricorda baby maglianino coraggioso Mi piaceva tanto da piccolo quel film Mi faceva anche piangere Ah il paradiso delle squid Cioè abbiamo i maiali dietro casa E non li possiamo Li mortacci Ascoltate c'ho la magia di romper Con la prima cosa che c'ho in mano Non è colpa mia Dove sono le mucche Io voglio le mucche Allora ghiaia non mi serve Ghiaia neppure Una porta non mi interessa C'è ragione Non sono ordinato Tutto sta solo a trovare sta mucca Ti prego dove sei mucca Guarda quanta strada devo fare Per trovare una fottuta mucca Allora facciamo così Adesso cerco la mucca E quando l'ho trovata Continuiamo Che è meglio Si è fatta notte Siamo riusciti C'è un solo unico problema Intanto vi porto dentro Ci mancava Adesso l'ultimo L'ultimo ostacolo Non riesco ad entrare Potete entrare per favore Adesso Siete tre mucche ok Dovete entrare in un fottuto recinto Vuoi capire dove è l'entrata? Perché siete riusciti Vi prego Si ha lodato il cielo Allora senza perderci in chiacchiere Dobbiamo probabilmente riscendere Realmente a trovare altri diamanti E so che non sarà proprio facile Tanto dobbiamo aspettare Che le mucche si riproducano Per la pelle La canna di zucchero ce l'ho E visto che tutti mi state mettendo Al corrente Di stare attento Al nether Di andare in giro Che se non ho una buona armatura Almeno di diamante È meglio procurarseli Iuppi Non mi ricordo da che parte Ok Allora 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 Eravamo andati di qua In una lunga tipo via E lunghissima proprio Sono fuori dal tunnel Del divertimento Ok eravamo rimasti qua Mi ricordo Madonna mia Dammi st'acqua C'era sta grotta che continuava Ok qua c'è un po' di ferro Anche se interessa poco Qua ci prendiamo anche La storgente d'acqua Nel caso magari incontriamo Qualche cosa di lava Che ci brucia inaspettatamente Fatello Padre Madre Cugino Zia Guarda qua Famiglia di ferro Piacere Famiglia ferri Adesso arriverà il commento sotto E io faccio di cognome Ferri Ciao ferri Ok si può continuare Di qua In pavido Io ho paura Di perdermi In queste caverne Perché queste sono caverne Tra vi volete Già fatte Quindi potrebbero Veramente portarmi In sottosuoli I miei mai visti Lontano da caldo Fortunatamente il cibo ce l'ho Quindi serve sempre per le torce Uno stack di legna Ce l'abbiamo O c'è un bug A continuare a scavare di qua Dovevo andare molto a sensore Tipo con le orecchie Perché è illuminato qua Ah lava Ok non è acqua È lava Ok Fortuna che non ho ancora trovato Troppi mostri Oddio Se ne trovassi qualcuno Sarebbe anche buono Al massimo mi droppano Una carota o qualcosa Madonna è enorme qua Qui non ci sta niente Bisogna sempre illuminare Perché si potrebbero nascondere Anche minerali Di cui non abbiamo l'esistenza Oh batti è rinato Questi sono i fratelli Abbiamo sempre portato fortuna loro Quindi evidentemente Credo che dobbiamo sempre scavare Da ste parti Tanto penso che ormai Le caverne Abbiamo capito che su minecraft Più o meno sono tutte collegate Anche se sono fatte a muzzo Quando le crei Cos'è sta roba Ok Ah non era così difficile Ecco ho creato quello Il passaggio per loro Buono No qua ho potuto ricreppare male Uh c'è della redstone E c'è la lava La redstone tra l'altro Si trova pure bassa Quindi Sì ma essendo comunque Abituato a Skylandia qua In realtà scarseggiano un casino I minerali Quelli importanti importanti Però si avvicinano la lava Quindi sono speranzosi Comunque riusciamo a trovare qualcosa Non si sa mai Facciamo un po' così Slash Slash Sistema un bo Diamanti Ok trovati Via tutto qua Via boh boh Via tutto Due Tre Quattro Dammi ancora un paio Cinque Cinque Ok Con un altro C'è andata bene C'è andata bene Perfetto Ok ci siamo anche rifatti le torce Così Ok siamo a due Dammi ancora uno Tre Buono Buono Quattro Meno male che ho preso l'acqua all'inizio Che è servita veramente un casino No No Non ci credo Non posso essere così stupido Non ci credo Voglio un replay Fabio Ho tolto l'acqua mettendo la torcia Quando volevo togliere Vabbè Abbiamo raccattato tutto quello che c'era da prendere Però abbiamo totalizzato nove diamanti Che sono abbastanza Io direi che possiamo proseguire il dungeon Al contrario Fortunatamente siamo andati in giù Yeah Abbiamo nove diamanti Facciamo Che carutta Ah sono andato proprio in un altro dungeon Ok Carota Che ne dici una bella carottina Mi ha dato la carota Non ci credo Ma raga ma io c'ho Chi è che mi spara Oh ci godo L'hai preso tu Fammi la scudo Buono grazie Mi ha dato la carota Anche una patata No no ragazzi Non mi rovinare il momento di gioia Cazzo ragazzi No non ci posso credere Ma che culo c'ho Ma che culo c'ho No 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 Due zombie E due cose che mi servivano Vabbè Rispetto per il zombie d'ora in poi Adesso sono contento Ma è impavido proprio Va giù dai mostri Boom Madonna quest'acqua Quanto mi fa venire le malattie Allora questa la teniamo Per ora Di acqua Perché voglio esplorare Per vedere se trovo altri diamanti È un bel problema Ciò che io sto anche ad avere un po' paura Perché ho diamanti Patata Carota Cioè Diciamo un po' tutto Non vorrei che Stiamo iniziando un po' a strafare Mi fa venire paura Che è un ghepardo Oh porca Oh ma Vaffanculo Dovete crepare male Io sono Robin Hood Il mio fratello era Io sono Robin Hood E sono anche suo fratello Hai capito Allora Mungiamo i polletti Ah ok ok Era semplicemente uno stupido Enderman che faceva la doccia Ok Mayday Mayday Ho paura In questo momento E non capisco perché La mia paura mi fa Continuare ad andare avanti È quello il problema Ok Mori Perché sto continuando ad andare avanti Perché Qua servono le torce Ma ci ricordiamo poi Dove siamo passati Il salto dell'acrobata Oh merda Un nuovo piccone Tanto che cuoce Io qua Mi faccio un po' di strada Madonna quanta lava Beh animale animale Grazie a tutti per aver visto Questo video Scusatemi Ma sarebbe venuto Un video lunghissimo Perché purtroppo Ho davvero registrato Un casino Sui primi 25.000 Mi piace E fra pochissimi giorni Vi faccio vedere La seconda parte Di questo episodio Che è veramente fantastico Ancora un grazie per la visione Ci si becca domani Con un nuovo video Stay angry Stay animals